La polizia stradale ha tempestivamente individuato e tratto in arresto un giovane poco dopo il furto della Fiat 500 Abarth consumata a Caltanissetta. Attraverso il GPS montato nell'auto, infatti, la polizia ha notato che il veicolo percorreva a forte velocità tra i 180 e i 200 km orari l'autostrada A19 Palermo-Catania in direzione del capologo Etneo. Gli agenti della polizia stradale di Catania hanno predisposto in tutta fretta il blocco dell'autostrada, simulando un incidente in cui un tir richiudeva l'intera carreggiata. Così il ragazzo non ha potuto fare altro che rallentare la velocità fino a fermarsi definitivamente e incolonnarsi. In questo modo gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un ragazzo di 24 anni già conosciuto alle forze dell'ordine per lo stesso tipo di reati. Con sé a bordo, oltre ai classici arnesi da scasso per forzare le serrature, è stato trovato in possesso di una centralina in grado di bypassare l'antifurto elettronico del veicolo. Il giovane ha subito ammesso il furto commesso poco prima nel capologo Nisseno. Così è scattato l'arresto. L'auto, intanto, è stata restituita alla legittima proprietaria, una giovane di Caltanissetta.